musica eccoci qua ragazzi, ben ritornati siamo con la terza parte ho appena finito di registrare la seconda faccio video corti in modo da potervene portare più di uno al giorno perché visto che ieri non ho fatto niente causa causa, causa, causa ho cancellato Steam con tutti i giochi quindi ho dovuto riscaricare però adesso ho scaricato solo Tomb Raider non tolgo altro tempo vediamo se devo ricaricare cosa c'è? no io voglio la pistola però veramente ho notato che pensavo che non moriva stavo già andando fuori di morte immagino che devo andare qua perfetto sì sì, sì, sì sì, sì, sì sì, 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 non ho idea eh, qua dove c'è un paramotore ah, così sì, sì, sì sì, sì 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 è sicuro tutto bene oltrebbero grande ragazzi no veramente è diverso dagli altri Tomb Raider questo qua nel mirare e sparare è tutto veramente diverso siamo pieni di tutto perfetto andiamo penso qua sopra sì tranquilla sono io che sto facendo uno spinello ma sì tranquilla con tutti quelli che ha ammazzato nella tua carriera invece non sai quanto devi avvertire gli altri rotta no adesso non pensare a loro hai il possibile per raggiungermi ci proverò grande ok non lo so io sto andando a un po' a caso così no frecce sono pieno ok perfetto non vedo dove è sicuramente qua questo vediamo se c'è qualche punto un punto abilità perfetto si risveglia dagli incubi allora ma questo sembra non finire abilità vuol dire che non è un incubo questo cos'è a fare queste cose no non pensarci Lara non adesso non serve 12% non so che fine abbia fatto il resto dell'equivaggio però stiamo bene mano ferma scusa ho non usa qualche tasca e sempre consente questo percino non va bene non capisco cosa stia succedendo in questo posto l'importante è l'importante è che adesso ci diamo l'impegno ok perfetto mi ha hanno chiamato dalla spiaggia Oves un gruppetto è fuggito nella foresta a bar potremmo mandare qualcuno a cercarli mi è andato padre Mattias ha detto di stare alla latte eh? perché? merda! mi serve aiuto! vai! se solo è una! cosa volete da me? ma vai! che ti ho sparato! dai va guarda sti bastardo ah verda... mièèèèèèèèèè.... dobbiamo controllare bene se c'è qualcos'altro ah vediamo, scusatemi un attimo qua spingi, spingi, spingi qua l'ha già preso il materiale, perfetto vai è qui dentro, tra il diabolo viva o morta? morta una spina nel fianco è mo? ah ok, spara la l'antenna direto M-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b... Continua a cercare, mi resta da qui! Vai 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 vai! Vai 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 vai! Grande Lara, come mi gasano queste uccisioni! No! Arco arco, non se... Oppala! Ok! No, ho la mia freccia! Oppala! Grande ragazzi! Questi qua li abbiamo fatto... No merda! Andiamo! Andiamo! Un pezzo di madre abbastardi! Andiamo! Andiamo! poco queste cose qua devi essere abbastanza concentrato ma c'era qualcosa cosa devo schiacciare qua ah perfetto mi piace un po' che mi sapeva qualcosa ok andiamo alla ruccia, vediamo se qua indietro c'è qualcosa allora si, da giù c'è qualcosa no, non voglio accendere la fiaccola, non ho testo posizioni, frecce, perfetto ma io dove devo andare, scusate no ce la fai o ce la facci? ok perfetto dobbiamo andare qua ah, si, là c'è qualcosa da dare fuoco ok eh si, però procurati del fuoco, adesso lo vediamo aspetta allora si si ci si può andare, ecce qua qua dentro cosa c'è? ho un ventaglio di seda poteva appartenere a una... qua qua forse si brava alla secondo me ti sarà incendiata a metà faccia però non so voi via di lì ok materiali e vai finiscono a questo punto oh sciobarocco prezzemolo fidoccio dai zompa com'è? eh ho capito eh mo eh mamma mia come zompio mamma mia come zompio ok ok allora noi siamo arrivati di lì è probabile qualcosa c'è si perfetto grazie andiamo io posso farcela oh 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 yeah dai Dai, non fermarti! Sente! Dai! Esci in blocca! Esci in blocca! Sì, mi sembra un po' esagerata come scena, dai! C'è vero che c'è Bergo e Ismus! Ah! Rògli! Rò! Arrivo, Rock! Esci in blocca, è fortuna, sei vivo. Quale fortuna. Però anch'io sono felice di vederti. Mi spiace, te l'hanno conciuta proprio male. Niente di che. Hai avuto notizie di te? Niente. Ehi, che cosa stai facendo? I lupi hanno preso il mio zaino. Dentro c'è la trasmittente della sciampa. Senza, non potremmo mai lasciare questa maledetta isola. Ho capito, ma a te servono band, morfina, antisettici. Strano. Strano, ma vero. Dai, accampati. Oh no, 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 no. No, no, no. Poi del nord è la vostra testa dura. Ok, ok. Ok. Yano, lo stai stretchando in terra. Non so quanto comunque quello che è. Ehhh... Ok... Ok, ok.